A lei Gigi. Devi entrare in modalità placca. Modalità placca significa che devi cercarti i piedi, caricarli bene, abbassare il tallone. Poi c'è la sequenza di duchetti. Ok, adesso dove hai messo le mani nel buco ci vai con i piedi. Guarda la sequenza giusta, quindi nel primo buco ci devi dare col piede destro. Poi subito dopo l'altro col piede sinistro. E sopra c'è un altro buchetto per le mani. Ok, passi corti, cerca tutti gli avvallamenti. Direi per la sequenza di placca. Ok, su bene. Posso andare anche di qua? No! Scusa, se vuoi ti metto anche una scala? La via va di lì? Ah, vai i tuoi passi, non ti preoccupare. Caricali, ecco, hai detto sei da secondo, non rischi niente. Puoi farteli tutti senza problemi. Dopo marco la proverà da prima. Sì, sti cazzi oggi no. Ma mi sa che è ancora un po' calda quella roccia. L'erenza... Ah, ma guarda no, non è mica... Tiene bene, dai. Tiene bene, tiene bene. Andate in ombra. Vieni dai, vai su bene. Cerca le conchettine per i piedi. Non cerca tanto per le maniche, c'è poco. Lì si va con i piedi, si va. Porca troia! Cosa c'è? Bip! Ah dai, che niente di che. Fai come hai fatto fino adesso. Dimentica le mani. Su bene. Ok. Non stare troppo in avanti eh. Basta un pochettino per i talloni che così è più aderente. Vieni dai, che sopra c'è quella bella... C'è la presona. Come prendi la presa sei fuori. Ok, buono, bravo! Vedi? Vedi? Porco dia! Cosa c'è? Un bel test? No! 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 No!